amici di atti sport ventiquattro bentornati siamo pronti ad iniziare una nuova stagione la serie A si allinea ai nastri di partenza dell'edizione 2024-2025 e torna con noi anche Telescopio Azzurro il Napoli è pronto a tuffarsi nel campionato dell'operazione rinascita e per parlare di questo e tanto altro è un piacere ritrovare insieme a noi il giornalista di Pianeta Napoli Gennaro Perna ciao Gennaro ben trovato ciao Andrea a te a tutti i nostri spettatori e ben ritrovati per questa nuova stagione Gennaro iniziamo proprio da quella che con un anno di ritardo può essere la nuova era che era stata annunciata in Pompamagna l'anno scorso e poi è finita in un'annata disastrosa che bilancio tracciamo dei due ritiri del Napoli di Conte allora che possa essere questa nuova era bisogna ancora attendere qualcosina che speriamo possa accadere per gli azzurri dal da possa arrivare qualcosa dal mercato e qualche altro giocatore che come dire rinforzi questa rosa e puntelli alcune necessità di cui ha bisogno il nuovo mister Conte per quanto riguarda i due ritiri il primo ritiro quello di Dimano è stato un ritiro molto diciamo focalizzato sulla preparazione atletica molto dura molto forte che Conte solitamente fa per le proprie squadre per quanto riguarda quella di Cassel di Sangro di fatto un tentativo di inserire tra virgolette nuovi arrivi oppure coloro che sono tornati diciamo dalle dalle avventure della delle nazionali che però al momento non danno come dire garanzie nel senso che la preparazione atletica svolta a Dimano è una preparazione atletica fatta su uomini che potrebbero essere tra virgolette di seconda fascia rispetto ai potenziali titolari l'inserimento dei invece di uomini che vengono dagli europei oppure dei nuovi acquisti è un inserimento al momento molto graduale e lento che non vedo sia portando grandissimi risultati la partita di Coppa Italia conferma un Napoli che al momento riesce a non prendere molti gol e questo fosse stato la la maggiore nota positiva eh del del precampionato ma comunque è una squadra che fa fatica a segnare a sviluppare il gioco quindi se questo dovesse essere il Napoli eh questa è una squadra che ha ancora grandissimi limiti e grandissimi margini di miglioramento sui titili non si può dire altro che Conte si è impegnato ha fatto impegnare i suoi e quindi la come dire le sensazioni lato lato allenatore il lato staff tecnico sono delle sensazioni però mancano ancora i giocatori e allora ti chiedo in che misura un organico non ancora completo penalizza il lavoro del condottiero leccese tecnico che poi è abituato ad imprimere nei suoi atleti una mentalità ben chiara un'identità di gioco definita è un gioco che è proprio codificato situazione per situazione allora diciamo sì questa la mancanza di dei calciatori che potrebbero arrivare per rinforzare questa rosa è è una mancanza fondamentale ovviamente in senso negativo per mister Conte Conte è uno che avrebbe voluto e io qui prendo la prima tra virgolette piccola prima piccola delusione stagionale avrebbe voluto eh che la rosa fosse al completo o più o meno una rosa che gli potesse consentire fin da subito di imprimere un buon ritmo alla alla nuova stagione azzurra che inizierà contro il peruno al venticoli però mh come dire l'assenza di questi calciatori limita limita tantissimo Conte che ha provato a fare degli esperimenti a capire chi potesse essere un'eventuale prima punta nella prima giornata ad esempio piuttosto che i quinti di difesa che ogni che cambiano lui ha fatto anche lì degli esperimenti anche nel terzetto difensivo che sembra essere quello più completo lui ha ancora molti dubbi quindi eh da questo punto di vista il Napoli ha lavorato male in questo pre campionato ha lavorato male nel senso non dell'impegno ma della mancanza dei giocatori che potessero dare delle garanzie nella prima giornata quindi per rispondere alla tua domanda a queste assenze e queste pedine che ancora mancano in questo ritardo sul mercato secondo me potrebbe mi auguro di no incidere sulla partenza del Napoli di Conte. E un altro elemento che io credo sia fondamentale è quello psicologico perché nove acquisti a parte questa è una squadra che è passata dal triunfo dello scudetto alla virgolettato depressione dello scorso anno quanto tempo impiegherà Conte con il suo staff a cancellare i retaggi psicologici di una squadra che soprattutto nel finale dello scorso anno faticava ad esprimere anche un'idea minima di gioco. Allora Andrea qui questa domanda è una bellissima domanda anche abbastanza tra virgolette complessa secondo me queste queste situazioni si risolvono in due modi o eliminando dalla rosa ovviamente calcisticamente parlando quindi vendendo i calciatori che hanno reso meno e che non sono riusciti a fare quest'alto di qualità mentale nella scorsa stagione dove hanno perso il loro condottiero Spalletti quindi sono dei ragazzi che hanno dimostrato di non avere quella forza psicologica di essere in grado di fare quest'alto di qualità quindi questi calciatori o li vendi sostanzialmente o provi con un allenatore forte come Conte a convertirli a una nuova idea mentale dal loro punto di vista io sono un po' scettico nel senso che per me un calciatore se è forte l'avrebbe potuto dimostrare anche senza Spalletti non c'è bisogno di una della balia Conte per farli ripartire tra virgolette quindi io sarei sempre per ripulire quanto più è possibile questo spogliatore che ha vinto lo scudetto e ha perso malamente arrivata decima malamente la scorsa stagione quindi è un compito arduo questo di Conte anche in quest'ottica c'è bisogno di nuovi acquisti che possano levare delle responsabilità a coloro che hanno dimostrato di non reggere il peso dello scudetto vinto e consentire poi di vendere e reintegrare bene la rosa e amalgamarla nel modo giusto assolutamente nel mentre però si parte c'è l'esordio in campionato si riparte tra virgolette da un incrocio che scarica romanticamente ha portato bene è stato l'inizio della cavalcata scudetto si va al 20 godi contro il Verona del nuovo tecnico Paolo Zanetti che partita ci aspettiamo? Allora su questo io la scavanzia sinceramente credo poco credo molto nel lavoro quindi nell'organizzazione di gioco e io ti dico che Zanetti è un allenatore che solitamente ha bisogno di un po' di tempo per imprimere le proprie tattiche perché è un allenatore che prova a giocare al calcio come piace dire a me quindi è una squadra anche quella del Verona che mi pare sia stata eliminata da Cesena in Coppa Italia che è in costruzione quindi vedremo c'è un'incognita ti ripeto perché il Napoli è una squadra solida ma fa fatica a fare cool quindi se non segni non vinci le partite quindi è una partita difficile è un campo ostico se Puscan romanticamente ci ha portato negli ultimi anni qualche soddisfazione però è una partita complicata e il Napoli ha un solo obbio quello di dover vincere per poter partire bene altrimenti si aprirebbero anche tante giustamente potrei dire anche delle chiacchiere delle argomentazioni che potrebbero essere deleterie per il Napoli di Conte stesso Chiudiamo con l'ultima battuta dove si può decidere questo match dove è che il Napoli può fare la differenza? Allora secondo me ti ripeto in fase offensiva perché io spero che la fase difensiva sia solida sia bene organizzata all'arrivo di buongiorno sicuramente da delle garanzie la difesa a tre dal punto di vista teorico dovrebbe garantire maggior copertura è chiaro che in attacco si gioca la vera partita e quindi io penso possa essere da Spadori la punta centrale attaccante che a me onestamente non fa impazzire come punta centrale è un ragazzo che è molto forte tecnicamente ma che la butta dentro con qualche difficoltà quindi è secondo me lì nella zona centrale d'attacco del campo che il Napoli dovrà fare quel salto di qualità aiutato dagli esterni napoletano da Quara ricordiamo il gol splendido che fece contro il Verona in passato e quindi diciamo che i centrocampisti ma soprattutto i due esterni d'attacco dovranno dare una mano a Raspadori se dovesse essere lui a buttarla dentro quindi è lì che si decide chi butterà più palloni dentro sembra una cosa banale e se lo farà il Napoli con una certa sostanza e continuità sarà lì la zona del campo dove si giocherà la partita va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio Gennaro Perna per essere intervenuto do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Gennaro grazie ciao Andrea saluto a te e a tutti i nostri spettatori e buon campionato a tutti e buon campionato a tutti